La riforma sanitaria è al centro del programma promosso dalle quattro liste a sostegno di Elena Ugolini in corsa per diventare la prossima presidente della regione Emilia Romagna. Abbiamo tanti anziani, tanti malati cronici, tante persone sole, tante persone che hanno bisogno di qualcuno che le ascolti e che se ne faccia carico prima di arrivare al pronto soccorso. La nostra idea è di valorizzare i professionisti della salute, infermieri, medici, le persone che vengono dalle professioni sanitarie perché con loro si ripensi un servizio che deve arrivare alla presa in carico vera di ogni singolo paziente. Questa è la nostra sfida. Dieci giorni fa la Corte dei Conti ha parlato di un disavanzo di centinaia di milioni di euro sulla sanità nella nostra regione. Dobbiamo imparare a spendere bene i soldi. Qual è il suo pensiero per i cow? Che sono state una toppa messa ad un vestito vecchio, che hanno aumentato la spesa in modo non efficace e che avremmo dovuto utilizzare quelle risorse per rafforzare la presenza dei medici di medicina generale, gli strumenti che hanno a disposizione. Grande attenzione anche al tema dello spopolamento della montagna, che va contrastato attraverso investimenti e maggiori servizi. Questa è la ricetta di Elena Ugolini. Noi dobbiamo investire sulla montagna sia dal punto di vista della mobilità, sia dal punto di vista dei servizi educativi e sanitari, della digitalizzazione, ma poi dobbiamo valorizzare la presenza degli agricoltori nelle zone di montagna, perché sono loro i veri custodi del territorio.